Buonasera cari telespettatori, eccoci insieme anche in questa occasione di approfondimento. Come sempre la nostra trasmissione in questa nuova ottica di procedura è articolata in più interviste. Noi come sempre cominceremo con lo SPI CGL, quindi con l'approfondimento dedicato ai pensionati, ai lavoratori, insomma al vario sistema sindacale, tutto quello che è necessario sapere per non restare fregati in qualche modo e poi come sempre seguiranno le nostre interviste di approfondimento con vari protagonisti e saranno delle belle sorprese. Tra poco quindi vediamo di cominciare.